Siamo con Patrizio Rispo, volto storico di Un Posto al Sole, colui che detiene la memoria di Palazzo Palladini. Quante cose sono cambiate in questi anni? Ahimè, figurati a chi si è affidata questa memoria. Beh, abbiamo raccontato un po' di tutto e il successo di questa nostra avventura è proprio che noi riusciamo a coinvolgere per fasce sociali, per fasce d'età un po' tutti. Noi lanciamo il lac, quelle che poi possono diventare discussioni in famiglia, anzi molti ci fermano grati degli argomenti che mettiamo a fuoco perché poi dopo in famiglia vengono approfonditi, vengono sviscerati. Quindi è un motivo, diciamo che siamo il nuovo focolare domestico. La fermano per strada per chiederle come va a finire? Sì, è una domanda, come va a finire? Non lo so, ma quando chiudete? Ma perché dico, lei che lavoro fa? Lei quando chiude? Noi siamo ormai una vita parallela, devono sopportarci, ma ormai siamo diventati parenti. E molti mi dicono che vedono più noi che i loro veri parenti, quindi veramente c'è un'affezione diversa da quella che può essere quella dello spettatore con il personaggio televisivo. Insomma è proprio un rapporto di affetto sincero. Allora rompiamo subito il ghiaccio dicendo una cosa che mi ha detto tempo fa Germano Bellavia o Guido che dice che il vero tifoso in realtà del Napoli è lui. È lui assolutamente, lui è il vero tifoso con il carattere, cioè questa proprio spudoratezza di tifo che c'ha Raffaele. Nella vita invece c'è la Germano assolutamente, io sono molto più british diciamo. Perché però Patrizio Dispo è un vero appassionato della musica del San Carlo. Sì, quello sì, infatti è una delle cose che io ho suggerito agli sceneggiatori. Mi piaceva fare un portiere diverso dai portieri eduardiani del dopoguerra, cioè un portiere che vive la realtà, il quotidiano, è pieno di interessi, non sbaglia i congiuntivi, non dice volgarità. Io sono conscio di essere un esempio proprio per il mio personaggio popolare, quindi ci tengo ad alzare il gusto e non abbassare il prodotto come si dice. Ecco, a proposito di un portiere diverso, è anche un portiere che a seconda un po' i gusti del figlio, del figlio che sta per fare la maturità, però vuole fare il cuoco, ha la passione per la cucina. Come andrà a finire questa storia? Come la stiamo affrontando e cosa ci dobbiamo aspettare? Non si sa. Come la stiamo affrontando? Con i normali conflitti familiari fra le tensioni della madre, le scelte mie, ma tutti e due, insomma, siamo due persone abbastanza aperte, sia Ornella che io. Io seguirò l'esempio dei miei genitori, fate quello che amate fare, qualsiasi cosa fatta con passione darà soddisfazione o comunque darà il gusto di farla. Lei è Patrizio Rispo o lei è Raffaele Portiere? Seguirà l'esempio dei suoi genitori? Patrizio Rispo e Raffaele Giordano che ormai sono una cosa, ormai siamo uno e trino perché c'è Patrizio, Patrizio che è il figlio di Patrizio di Raffaele Giordano e Raffaele Giordano, quindi sono alle soglie della schizofrenia. E invece per quanto riguarda il ruolo sociale che spesso assume anche Patrizio Rispo, lei è presente in molte campagne, è stato presente anche in Africa, in campagna per i non vedenti, però io so anche per esperienza personale con il portale Napoli Città Solidale che lei segue spesso e dice mai di no. Si è sparsa questa voce per cui io sono una vittima felice ma una vittima di tutte le associazioni che esistono sul territorio, per quanto mi è possibile ma è diventato veramente un impegno che va oltre quello lavorativo, però questo mi gratifica perché mi fa entrare in contatto non solo con realtà difficili ma anche con persone bellissime, è il che mi dà fiducia, visti i tempi che corriamo, non tutte le persone meritano fiducia, quindi questo mi rincuora un po'. Lei a volte è affidato il lato comico del social drama che è un posto al sole che ricordiamo non è una soppopera ma è un social drama, è un format australiano che in Australia si chiama Neighbors, vicini, no? Ed è ambientato a Melbourne, invece qui da noi ha tre caratteristiche, c'è il lato comico, il lato social e il lato sentimentale. Ecco, se invece lei dovesse scegliere di raccontare anche qualcosa di sociale, non posso assolutamente cosa sceglierebbe? Ma noi lo raccontiamo sempre, anzi la cosa bella di questo prodotto è che non solo noi attori siamo tutti più o meno impegnati nel sociale, ma riportiamo all'interno delle storie con una grande attenzione e della produzione che degli sceneggiatori, queste storie all'interno delle nostre storie. Per cui diamo modo di amplificare questi suggerimenti, queste campagne del sociale. Questo è un grande merito di un posto al sole che tu considera soltanto che quando facevamo una sensibilizzazione per la donazione del sangue ci fu un'impennata del 35% di donazioni, che avevamo un grandissimo ringraziamento dall'Avis. Per cui questo ti fa capire quanto siamo importanti e più ce ne rendiamo conto, più ci teniamo a far sì che questo avvenga. Sì, dovessimo fare un invito a guardare un posto al sole oggi. Sappiamo che un posto al sole ha raggiunto il 9% di share di questi tempi, però se dovessimo dire a uno spettatore medio che non lo vede, un posto al sole, che non lo guarda tutte le sere, lei che cosa gli direbbe? Ma invece di leggerti il giornale, guardaci, raccontiamo la realtà e diamo degli spunti di aggiornamento su tutti gli argomenti importanti del momento, per cui guardatelo bene o male, anche perché come siamo fatti, uno capisce subito se c'è una storia da seguire o meno e chiunque trova la storia a lui vicino, per cui diventa un motivo di discussione, di trasversalità, lo vedi col figlio, con la nonna, eccetera, è un momento di aggregazione, non te la perdere. Questa sua famiglia in un posto al sole rimane solida? Ci possiamo sperare? Beh, deve rimanere solida per contratto, noi siamo proprio i buoni, siamo i buoni sentimenti, la morale, anzi alle volte temo questa giustezza della mia famiglia, infatti vorrei, anzi io con la mia testa ogni tanto rompo proprio con la commedia, ma se no siamo proprio i portatori, a me non è concesso, il tradimento non è concesso, io devo essere di esempio e sono felice di esserlo. Patrizio Dispo, quanto improvvisa sul set? Molto, ma perché così come cucino, a me mi annoia eseguire ciecamente, io non posso non tener conto di un frigorifero, parto col fare la genovese, ma se c'ho altre cose le metto dentro sapendo usare l'armonia degli ingredienti e così è sul set, io non posso tralasciare un errore, cioè io adoro quando succede un errore, un inghippo, un problema del compagno, dico non ti fermare mai, andiamo avanti, sono i momenti più veri della cosa. Ecco a proposito di piatti, se dovessimo paragonare un piatto che cosa sarebbe un posto al sole? Beh un minestrone, cioè di tutto e di più, sano, genuino e onesto. Ma è vero che lei è così appassionato di cucina? Sì, assolutamente. Quindi insomma possiamo fare questo binomio, Patrizio Raffaele, veramente? Il libro, lo sapete, esiste un libro, Un passo al sole si chiama, e lì sono le ricette di casa rispo, non quelle napoletane, quindi ci sono tutte le contaminazioni possibili, immaginando. A parte che sono il cuoco qua del gruppo, per cui sono felice di ricevere a casa mia, avere loro, che è la mia seconda famiglia, se non la prima ormai, perché è più longeva della mia originale, quella di Un passo al sole. Ecco, allora facciamo così, spieghiamo un segreto ai nostri ascoltatori, spettatori, la genovese. E ne esistono tante pure lì, c'è la finta genovese fatta solo con le cipolle, poi si può fare quella con il pezzo di prosciutto, senza mettere il sale, che si consuma, eccetera. Quella che si fa con, sapete, non so come l'ho chiamato, siete in napoletana? Sì. Ah, il primo taglio, quello che finisce a punta, pezzo di carne, l'importante è la cipolla, la cipolla deve essere quella là, quella giusta, quella dorata, molte cipolle, una decina di cipolle, quindi devi far rosolare il vino, non è semplicissimo. L'importante cipolle in tre, quattro ore, si deve consumare la cipolla, la carne deve rosolare, una bella fettuccina, pecorano, parmigino, parmigino, pecorano, parmigiano e pecorino, un po' di pepe e è fatta. E perché si chiama Genovese, allora, se è fatta a Napoli? Allora, questa è una cosa, però ce ne sono anche altre, quella è lì che puoi tritare anche il salame napoletano, che è quella là proprio che ti porti per una settimana e non la digerisci, quella con la carne macinata, si pare, le leggende sono molte, però pare che sia un piatto molto gradito ai genovesi che stavano al porto, quindi era la genetese, perché c'erano le trattorie del porto e facevano questo piatto, piaceva molto. Altri addirittura invece la fanno risalire ai banchieri di Ginevra, che pure erano a Napoli nel 1700, insomma le cose importanti che sono che né a Genova né a Ginevra, a Genovese non la conoscono e non la sanno fare, quindi rimane un nostro baluardo.